Sarà una delle grandi opere infrastrutturali del 2022 destinata a modificare sia il profilo della città di Pesaro sia le abitudini della sua mobilità. Parliamo del prossimo ponte ciclopedonale sul fiume Foglia. Oggi ci troviamo sulla parte terminale di via dell'Acquedotto all'ingresso del parco 25 aprile dove a breve sorgerà appunto l'area cantiere destinata alla realizzazione di questa grande opera infrastrutturale per un lavoro che durerà almeno 18 mesi. Parliamo infatti di un ponte dedicato a pedoni e ciclisti destinato a unire questa parte della città quella relativa appunto a via dell'Acquedotto e anche all'area Miralfiore fino alla parte opposta al fiume Foglia quella relativa appunto grosso modo alle quartiere Tombaccia. Il primo stralcio dell'opera già appaltato è impredicato di partire fra dicembre e gennaio con l'obiettivo di realizzare inizialmente un percorso ciclopedonale che da questa zona si avvicini all'argine del fiume. Dopodiché la posa del ponte sul fiume verrà effettuata la prossima estate in ottemperanza alle prescrizioni dei lavori legati al livello delle acque e al rischio di esondazioni più plausibili nei mesi più rigidi. Un investimento da 11 milioni di euro complessivi finanziati dal bando periferie per continuare a ravvivare questa zona della città che era molto trascurata qualche anno fa e che negli anni si è arricchita di diverse attrattive. Parliamo ad esempio del teatro della piccola ribalta, del nuovo bocciodromo così come dell'area dedicata allo skateboard e alle biciclette con la zona pump track. Non solo, il ponte costituirà anche un'altra attacca alla vocazione di Pesaro, città della bicicletta, con la bicipolitana che già corre lungo gli argini del fiume ma ora di fatto il fiume andrà proprio a guadarlo correndo parallela e parzialmente al ponte ferroviario e unendo la zona appunto di via dell'Acquedotto e area Miralfiore a questa parte della città, l'area della Tombaccia, un'unione tutta ciclopedonale evitando percorsi inevitabilmente più pericolosi per pedoni e ciclisti come il ponte su via Ponchielli o quello su Porta Rimini.